Un violento incendio ha semidistrutto nella notte un'azienda di produzione di materiali plastici laserplast incontrata a Stampalone di Cellinattanasio. Le fiamme particolarmente violente hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo. Per l'intera nottata sono state domate le prime lucili dell'alba. Non si registrano al momento conseguenze per eventuali residui tossici nell'ambiente dovuti al rogo. L'incendio è divampato verso le 23.30 e interessato un capannone industriale di circa 2.500 metri quadrati. Complessivamente sono stati impegnati 15 uomini. All'interno erano stoccati numerosi sacconi contenenti materiali plastico triturato. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero all'interno del capannone. Il forte calore sviluppato ha provocato il danneggiamento del solaio di copertura della zona interessata dall'incendio. Oltre alla fusione dei lucernai in materiale plastico e la caduta di gran parte dei neon dell'impianto di illuminazione. Il denso fumo annerito, pareti e solai del capannone e alcune attrezzature e automezzi presenti all'interno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cellino e Attanasio che stanno svolgendo indagini per accertare la natura del rogo che ha causato ingenti danni.